Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Credendo nel nome del Signore, siamo salvati. Non c'è bisogno di un'altra opera di salvezza di Dio. Questa idea è del tutto sbagliata. Giusto. Abbiamo ottenuto la salvezza eterna. Non è necessaria un'altra opera di salvezza. Questo è vero. Hanno assolutamente ragione. Sì, sono d'accordo anch'io. Anche il sangue del Signore Gesù ha purificato i nostri peccati. Siamo salvi grazie alla nostra fede in Lui. Fratelli e sorelle, con il nome del Signore Gesù saremo salvati. È la salvezza che il Signore ci ha portato. Ma la salvezza si riferisce solo al perdono dei peccati dell'umanità, al fatto che non saremo più condannati e puniti per aver violato la legge. Essa non prova che siamo senza peccato e del tutto purificati. Chi ha ricevuto la salvezza per grazia pecca ancora. È legato spesso al proprio peccato e non riesce a liberarsene. Leggiamo le parole di Dio Onipotente su questo tema. Per favore, andate a pagina 918. All'epoca, l'opera di Gesù era la redenzione di tutta l'umanità. I peccati di tutti coloro che credevano in Lui venivano perdonati. Bastava credere in Lui perché Egli ti redimesse. Se credevi in Lui, non eri più un peccatore. Venivi liberato dei tuoi peccati. Questo è ciò che significava essere salvati ed essere giustificati per mezzo della fede. Eppure, in coloro che credevano, rimaneva ciò che era ribelle e contrario a Dio e doveva lentamente essere rimosso. La salvezza, infatti, non significava che l'uomo fosse stato completamente guadagnato da Gesù, ma che non era più sotto il dominio del peccato. Per favore, andate ora a pagina 1002. I peccati dell'uomo furono perdonati attraverso Dio incarnato, ma ciò non significa che Egli non abbia alcun peccato dentro di sé. I peccati dell'uomo poterono essere perdonati attraverso il sacrificio per il peccato, ma l'uomo non è riuscito a risolvere il problema di come non peccare più e di come la sua natura peccaminosa possa essere rigettata completamente e trasformata. Fratelli e sorelle, le parole di Dio dicono chiaramente che salvezza si riferisce solo al perdono dei peccati. Con la redenzione del Signore Gesù non apparteniamo al peccato. Grazie alla nostra fede, Dio non si ricorda dei nostri peccati. Quando pecchiamo, preghiamo nel nome di Dio perché Gli perdoni i peccati e godiamo delle sue benedizioni. Ma non possiamo negare che sebbene i nostri peccati siano stati redenti dal Signore, la natura peccaminosa sia ancora dentro di noi. Abbiamo ancora indoli arroganti, egoiste, ingannevoli, avide e malvagie. Seguiamo le tendenze malvagie del mondo. Viviamo per amore di fama, prestigio e ricchezza. Ogni giorno pecchiamo e confessiamo. Confessiamo e pecchiamo. Anche chi ha letto con fervore la Bibbia non riesce a liberarsi dalle catene del peccato. Perciò oggi come possiamo dire di essere davvero purificati? La santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Lo dice la Bibbia. Come possiamo dire di essere stati guadagnati da Dio e aver ricevuto la salvezza. L'opera del Signore Gesù ha risolto il problema della nostra morte a causa dei peccati, ma non ha risolto il problema alla radice dei peccati. Quindi pecchiamo ancora e resistiamo a Dio di frequente. Siamo Suoi nemici. Se vogliamo essere del tutto guadagnati da Dio, Egli deve compiere un'altra fase dell'opera di purificazione e di salvezza. Siamo stati salvati, ma la radice del nostro peccato esiste ancora. Non riusciamo ad abbandonare il peccato. Non siamo stati ancora guadagnati da Dio. Esatto. Esatto. Non c'è da stupirsi se pecchiamo ancora. Dio deve compiere un'altra fase della Sua opera di salvezza. Sì, giusto. Sia ringraziato il Signore. Ora capisco. Dicendo questo, non neghi la salvezza del Signore? Sebbene le persone pecchino ancora, se facciamo affidamento sul nome del Signore Gesù, possiamo essere purificati. Non c'è bisogno di nessun tipo di nuova opera. Il Signore Gesù ha il potere di redimerci. Tramite Lui possiamo essere purificati. Giusto. Se aderiamo alla via del Signore, saremo purificati. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha completato l'opera di redenzione e ci ha salvati dal controllo di Satana. Siamo redenti dai peccati tramite il Signore e salvati per la nostra fede. Ciò è una prova inconfutabile dell'opera di Dio e nessuno può negarlo. Ma il Signore Gesù ci ha soltanto redento dai nostri peccati. non ha eliminato la nostra natura peccaminosa. Facendo affidamento sul nome di Gesù, siamo perdonati per i peccati e salvati per grazia. Non siamo liberati dal peccato e resi puri. Se dobbiamo essere del tutto guadagnati da Dio, è necessaria un'altra fase della Sua opera di salvezza. Come viene detto nella Bibbia, che dalla potenza di Dio mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Leggiamo altre parole di Dio Onnipotente. Andiamo a pagina 4. Dio Onnipotente dice Salvare completamente l'uomo dall'influenza di Satana non solo ha comportato il fatto che Gesù si facesse carico dei peccati dell'uomo come sacrificio per i peccati, ma anche richiesto che Dio compisse un'opera maggiore per liberare completamente l'uomo dalla sua indole, corrotta da Satana. Ora andiamo a pagina 1252. È vero che sei stato salvato da Gesù ed è vero che non sei considerato peccatore grazie alla salvezza di Dio, ma questo non dimostra che tu non sia peccaminoso e non sia impuro. Come puoi essere santo se non sei stato trasformato? Trasformato. Dentro sei assediato dall'impurità, dall'egoismo e dalla cattiveria. Eppure vuoi ancora discendere con Gesù e avere una simile fortuna. Salti un passaggio della tua fede in Dio. Sei stato solo redento, non trasformato. Perché tu sia secondo il cuore di Dio, l'opera di trasformazione e di purificazione deve essere compiuta personalmente da Lui. Se sei solo redento, non sarai in grado di raggiungere la santità. Di conseguenza, non sarai qualificato per prendere parte alle sante benedizioni di Dio, perché hai saltato un passaggio nell'opera di Dio per la gestione dell'uomo, ossia il passaggio principale per la trasformazione e la perfezione. Pertanto tu, peccatore che è stato solo redento, non puoi ricevere direttamente l'eredità di Dio. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha compiuto solo l'opera di redenzione, non quella di eliminazione della nostra natura peccaminosa. Se facciamo affidamento sul nome del Signore, non abbandoniamo il peccato, non siamo purificati. Per quanto grande sia la nostra fede e il bene che ricerchiamo, non otteniamo un cambiamento di indole. Ora ripensiamo al passato. Nei duemila anni dall'opera del Signore Gesù, chi crede davvero nel Signore pensa di staccarsi dal peccato tramite il nome del Signore Gesù ed essere salvato. Alcuni lottano tutta la vita per vincere se stessi, abbandonare la carne e per affrontare le loro impurità. Alla fine, nessuno ha testimoniato di aver abbandonato il peccato ed essersi purificato. Dico bene? Possiamo solo ottenere il perdono dei peccati tramite il nome del Signore Gesù, ma non possiamo essere purificati. Quindi, negli ultimi giorni, Dio compie una fase più profonda dell'opera di salvezza, con il nome di Dio Onnipotente. Giusto. Ora comprendo che abbiamo veramente bisogno di un'altra fase dell'opera di salvezza di Dio. Esatto. Sì. Oh, Signore, comprendo che quello che dicono è perfettamente ragionevole. Non abbiamo ancora abbandonato i peccati e non siamo davvero degni di vedere il tuo volto. Ma davvero, al tuo ritorno, potresti cambiare il tuo nome? Dio Onnipotente, è veramente il tuo ritorno. Oh, Signore, ti supplico di illuminarmi. Avete una base biblica per dire che il suo nome sarà Dio Onnipotente? Fratelli e sorelle, sono traditori del Signore Gesù. Non li ascoltate. Giusto. Fratelli e sorelle, il nome Dio Onnipotente negli ultimi giorni fu profetizzato tanto tempo fa. Possiamo scoprirlo tramite un'attenta analisi. Ora leggiamo Apocalisse 1, 8. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice gli Signori Dio, che è, che era e che viene l'Onnipotente. Ora passate al capitolo 11, 16, 17. E i 24 anziani, seduti nel cospetto di Dio sui loro troni, si gettarono giù sulle loro facce e adorarono Dio dicendo Noi ti ringraziamo, oh Signore Dio Onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai assunto il regno. Ciò fu profetizzato anche in Apocalisse 4, 8, 16, 7, 19, 6 e in molti altri passi della Bibbia. Il nome di Dio negli ultimi giorni è Onnipotente, cioè Dio Onnipotente. Non occorre leggere tutto. È vero. È tutto così chiaro. È chiarissimo nel libro dell'Apocalisse. Già. Guarda. Sì, esatto. Non pensavo ci fossero tante profezie. Già, la loro condivisione è davvero molto convincente. Lode al Signore. Lode al Signore. Non immaginavo che queste profezie citassero così chiaramente Dio Onnipotente. La scrittura è estremamente chiara. Oh Signore, possibile che Tu sia davvero tornato. Fratelli e sorelle, Dio è molto saggio e ogni singola cosa che fa ha una grande importanza. Il nome Dio Onnipotente rappresenta completamente la Sua opera e l'indole che Egli esprime negli ultimi giorni. Se Dio non ci avesse personalmente svelato questi misteri, anche se abbiamo passato tanti anni a leggere la Bibbia, non li avremmo scoperti. Leggiamo insieme le parole di Dio Onnipotente. Andate a pagina 929. Dio Onnipotente dice L'opera di Dio durante tutto il Suo piano di gestione è perfettamente chiara. L'età della grazia è l'età della grazia. Gli ultimi giorni sono gli ultimi giorni. Ci sono evidenti differenze tra ciascuna età, perché in ogni età Dio compie l'opera che rappresenta quell'età. Per attuare l'opera degli ultimi giorni, ci devono essere il fuoco, il giudizio, il castigo, l'ira e la distruzione per portare a termine l'età. Gli ultimi giorni si riferiscono al periodo della fine. Durante questo periodo conclusivo, non sarà Dio a mettere fine all'età? Per purre termine all'età, Dio deve portare con sé castigo e giudizio. Solo in questo modo Egli può portare l'età al termine. Pagina 930 Pertanto, durante l'età della legge, Yahweh era il nome di Dio, e nell'età della grazia, il nome di Gesù rappresentava Dio. Negli ultimi giorni, il Suo nome è Dio Onnipotente, l'Onnipotente, ed Egli usa la Sua potenza per guidare l'uomo, per conquistarlo e guadagnarlo, e alla fine concludere l'età. Una volta ero noto come Yahweh. Ero chiamato anche il Messia, e le persone un tempo mi chiamavano Gesù il Salvatore perché mi amavano e mi rispettavano. Ma oggi non sono lo Yahweh o il Gesù che le persone conoscevano in passato. Sono il Dio che è ritornato negli ultimi giorni, il Dio che porterà l'età a una conclusione. Sono il Dio stesso che si leva ai confini della terra, ricolmo di tutta la mia indole, e pieno di autorità, di onore e di gloria. Le persone non si sono mai impegnate con me, non mi hanno mai conosciuto, e hanno sempre ignorato la mia indole. Dalla creazione del mondo fino a oggi, nessuno mi ha visto. Questo è il Dio che appare all'umanità durante gli ultimi giorni, ma è nascosto tra gli uomini. Egli abita tra loro. È autentico e irreale, come il sole caldo e il fuoco ardente. È pieno di potere e trabocca di autorità. Non c'è una singola persona o cosa che non verrà giudicata dalle mie parole e che non sarà purificata attraverso il fuoco ardente. Alla fine, tutte le nazioni saranno benedette grazie alle mie parole, ma anche ridotte in frantumi a causa di queste ultime. In questo modo, durante gli ultimi giorni, tutti vedranno che io sono il Salvatore ritornato. Sono il Dio onnipotente che conquista tutta l'umanità. Un tempo io ero l'offerta sacrificale per l'uomo, ma negli ultimi giorni sono diventato anche la fiamma del sole che brucia tutte le cose e il sole di giustizia che rivela tutte le cose. Tale è la mia opera degli ultimi giorni. Ho preso questo nome e mi sono impossessato di questa indole, in modo che tutti possano vedere che io sono un Dio giusto. sono il sole caldo e il fuoco ardente. Faccio tutto questo in modo che tutte le persone possano adorare me, l'unico vero Dio, e vedere il mio vero volto. non sono soltanto il Dio degli israeliti o il Redentore, sono il Dio di tutte le creature nei cieli, sulla terra e nei mari. Ora capisco, è tutto così chiaro. Lode al Signore. Solo Dio può parlare con questo tipo di identità e questo genere di tono. Sono parole di Dio. Quella che sento è la voce di Dio. È la voce di Dio. Queste parole sono meravigliose. È veramente la voce di Dio. Finalmente il Signore Gesù è ritornato. Egli è tornato. Dio Onnipotente rappresenta il ritorno del Signore. Dio ha davvero cambiato il Suo nome. Sialode al Signore. Fratelli e sorelle, negli ultimi giorni, Dio compie l'opera di giudizio dell'età del regno come Dio Onnipotente. Ha svelato la nostra natura corrotta e giudicato la nostra iniquità parlando affinché comprendiamo la nostra natura ed essenza grazie a queste parole. Capiamo quanto profondamente siamo stati corrotti da Satana. Vediamo la radice della corruzione, la giustizia di Dio e la Sua indole inoffensibile. In più, Egli ci indica un cammino per cambiare la nostra indole, per abbandonare il male, perseguire la verità, cambiare la nostra indole ed essere salvati. Dio viene per compiere un'opera, giudicare e purificare l'umanità, premiare il bene e punire il male, per salvare totalmente l'umanità corrotta dal dominio di Satana e poi per completare il piano di gestione che porta avanti da 6.000 anni. Dio è apparso all'umanità negli ultimi giorni con la Sua indole di giustizia, maestà e ira che non tollera offese. Ha mostrato apertamente la Sua indole intrinseca e ciò che Lui ha ed è. È venuto a giudicare e castigare tutta la corruzione e l'ingiustizia dell'umanità per salvarci completamente dal peccato e ripristinare la santità dell'uomo. Egli vuole che la gente veda non solo la Sua saggezza nella creazione di ogni cosa, ma anche la saggezza della Sua opera concreta nell'umanità. Egli non ha solo creato ogni cosa, Egli rigna su ogni cosa. Non è solo sacrificio per i peccati, può anche perfezionarci, cambiarci e purificarci. Egli è il primo ed è l'ultimo. Nessuno può comprendere la Sua meraviglia o le Sue azioni. Chiamare Dio con il Suo nome di Dio Onnipotente è il modo più giusto. Sì. L'attuale opera dello Spirito Santo sostiene quella compiuta sotto il nome di Dio Onnipotente. Sì. Chi prega il nome di Dio Onnipotente e adora davvero Dio Onnipotente ha l'opera dello Spirito Santo e gode del nutrimento e dell'acqua di vita donati da Dio. Altrimenti cade nell'oscurità e perde la retta via. Al momento, le chiese ancora bloccate nell'età della grazia vivono nella desolazione. I credenti perdono la fede. I predicatori non hanno più nulla da dire e chi prega non prova più nulla. Inoltre, sempre più persone cedono alle tentazioni del mondo perché non hanno accettato il nome di Dio Onnipotente e non hanno seguito la nuova opera di Dio. Già, non c'è da stupirsi se la chiesa è desolata. Sorella Feng e le altre hanno ragione. La nostra situazione attuale è proprio questa. Sì, la radice di tutti i problemi sta nel fatto che non abbiamo seguito la nuova opera di Dio. E le ho trovate una più desolata dell'altra. I fratelli e le sorelle sono sempre più apatici. Non riescono a riprendersi. È esattamente così. Dobbiamo seguire la nuova opera di Dio. Sono d'accordo.